Dina cercava di fare tutto per suo figlio. Appena nacque Michele, era un bambino malaticcio. La donna chiedeva ogni volta al marito di portarli al mare. Ma Nicola era sempre impegnato. Lui guadagnava i soldi, così Dina e il figlio viaggiavano da soli più spesso. «Mamma, li farà caldo», chiedeva Michele alla stazione. «Molto», rispondeva la donna, guardando i biglietti per ricordare quale fosse il loro vagone. «Ci sarà il mare», insisteva il ragazzino. «Ci sarà», rispondeva la madre automaticamente. Salivano su un treno soffocante, che doveva portarli alla tanto desiderata vacanza. Era la località preferita di Dina. Quando arrivava lì, le sembrava di averci sempre vissuto. Piccole stradine tranquille, tutto pulito intorno e soprattutto l'aria. Era molto pulita lì. «Quando andremo a fare il bagno», tirava Michele la mano della madre. «Piccolo», calmati, rispondeva la donna. «Questo andava avanti per molti anni». Michele cresceva, la sua salute migliorava, ma la madre si preoccupava comunque per lui. «Dina, ho comprato i biglietti per il mare», diceva ancora una volta a Nicola. Come al solito, lui rimaneva a casa. «Va bene, ma perché non me lo hai chiesto», gli disse lei. «E che differenza fa quando andare», si stupì l'uomo. «Michele è allergico a tutto, per questo lo curiamo. Dobbiamo andare quando non c'è niente in fiore», rispose la moglie con rimprovero. «Scusa, non lo sapevo». Forse il padre si sentiva in colpa, ma anche la moglie doveva spiegargli di più. «Non importa, prenderemo le medicine e andremo», disse Dina prendendo i biglietti. Da qualche anno non viaggiavano più in treno, ma in aereo. Era più comodo, solo poche ore e arrivavano. «Michele, preparati, stiamo per partire», gridò la madre nell'altra stanza. «Non voglio», rispose il ragazzo uscendo nel corridoio. «In quel momento aveva undici anni». «Perché?», chiese la madre. «Ci siamo già stati venti volte. Lì è come essere a casa, non è più interessante», spiegò il ragazzo. «Andiamo in un altro posto». Dina ci pensò, e Michele aveva ragione. «Se scegli qualcosa?», «Dimmelo». Il figlio tornò nella sua stanza. Dina stava guardando i biglietti che aveva comprato Nicola. Dovevano restituirli. Ma poi ebbe una buona idea. «Michele, andrai in un'altra città balneare?», chiese lei. «Sì, c'è questa possibilità», si rallegrò il ragazzo. «Allora siamo d'accordo», sospirò Dina. Capì che potevano arrivare con quei biglietti e poi prendere un treno o un autobus per raggiungere l'altra città. Sarebbe stato comodo, e Nicola non si sarebbe rattristato. La donna e il figlio si imbarcarono. Presero i loro posti. Le hostess annunciarono la preparazione al decollo. «Scusate, si avvicinò una donna con un trasportino per gatti». «No, gli animali non sono ammessi qui», iniziò subito a preoccuparsi Dina. Chiamò una hostess che chiudeva i compartimenti per i bagagli sopra di loro. «Ascoltate, mio figlio è fortemente allergico, può avere una reazione improvvisa», disse nervosamente. «Non posso aiutarvi, tutti i posti sono occupati», la ragazza allargò le braccia. «Cosa dobbiamo fare?» Dina guardò Michele. Lei lo fece sedere vicino al finestrino, gli diede il suo fazzoletto e cercò di isolare il figlio dall'animale. «Mamma, cosa succede?» chiese lui confuso. «Niente, guarda fuori dal finestrino», gli disse indicandolo blò. L'aereo decollò. Dina pensava che Michele si fosse addormentato. Lei restava seduta e ascoltava il suo respiro. La madre sapeva quando stava per sentirsi male. Era già successo molte volte. Il ragazzo iniziava a respirare spesso e con difficoltà, ma ora tutto sembrava andare bene. Quando mancavano circa 40 minuti all'atterraggio, Dina iniziò a sospettare qualcosa. Suo figlio dormiva troppo silenziosamente. Si chinò su Michele e sentì un respiro molto debole e rauco. «Aiutatemi, mio figlio non sta bene», saltò in piedi. «Signora, cosa succede?» «Si sieda», le si avvicinò un assistente di volo. «Aiuto», Dina non riusciva a prestare attenzione a nessuno. «Cosa è successo?» chiese un uomo che camminava lungo il corridoio. Spostò leggermente la ragazza con la mano. «Mio figlio ha crisi di ostruzione a causa di allergie». L'uomo cercava di capire la situazione. «Sembra sia dovuto al gatto», osservò guardando il trasportino. «Non lo so, fate qualcosa», piangeva Dina. Presero Michele, lo posarono nel corridoio. Poi l'uomo si inginocchiò accanto a lui, aprì la sua valigetta. Si chinò, ascoltò, e sentì solo rantoli dal petto. Allora, senza pensarci, prese un bisturi e fece un'incisione sul collo. Poi estrasse un pezzo di tubo da flebo dalla valigetta. In quel momento tutti sentirono Michele respirare. «È tutto. Dopo l'atterraggio bisogna portarlo subito in ospedale», disse l'uomo. «Grazie». Dina era seduta sul pavimento del corridoio, si inghiozzando. Decisero di non sollevare il ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Tutti presero posto. L'aereo atterrò. Un'ambulanza con il team medico era già pronta vicino alla scaletta. Dina e Michele furono caricati sull'ambulanza e portati all'ospedale più vicino. Dopo una visita, il medico locale disse che il ragazzo aveva ricevuto assistenza professionale. «Ecco il mio salvatore». Entrò nella stanza alcuni giorni dopo l'uomo dell'aereo. «Salve!» Annui Michele, sorridendo. Il signor Boris porse la mano al ragazzo. «Che bello!» notò una strana tatuaggio sul polso dell'uomo. «Servizio!» Boris sembrò imbarazzato. Aveva un pugnale tatuato che sembrava trapassare la pelle. «Lei è un medico?» chiese Dina. «Sì», confermò lui. «Non so cosa sarebbe successo a Michele senza di lei. Sembrava che la donna volesse piangere di nuovo. L'importante è che tutto sia andato bene», sorrise Boris. «Dopo l'ospedale non c'era più tempo per le vacanze. Dina e Michele tornarono a casa. Questa volta non accadde nulla di imprevisto. Non siete per niente abbronzati», li accolse il marito in aeroporto. «Ci è successo qualcosa. Te lo racconterò per strada». La moglie andò verso la macchina. «Mamma, ho deciso. Niente più viaggi», le disse il figlio una volta a casa, parlando come un adulto. «Va bene. Tesoro», lo abbracciò lei. Gli anni scolastici passarono velocemente. A 18 anni Michele ottenne l'esenzione dal servizio militare per motivi di salute. Non era proprio una buona notizia. Ma tant'è. Il ragazzo si iscrisse al college, dopo il quale voleva avviare la propria attività. Amava fin da piccolo smanettare con i computer, quindi poteva aiutare gli altri. «Michele, io e papà abbiamo deciso di affittarti un appartamento», gli disse la madre. «Va bene. Non mi oppongo». Sebbene volesse sembrare indipendente, il ragazzo dipendeva ancora dai genitori. Si trasferì nell'appartamento. Iniziò a studiare, dedicando molto tempo ai libri. Michele voleva capire tutto. Ma non passarono nemmeno un paio di mesi che fu colpito dal primo amore. Milena era una delle due ragazze del loro gruppo. Tutti ridevano di lei, dicendo che era andata a studiare lì solo per trovare marito. Dato che il college era per ragazzi, ma lei non la pensava così. «Michele, so che te ne intendi, aiutami». Gli si avvicinò un giorno. «Fammi vedere», disse lui prendendo il quaderno con gli appunti. Conosceva bene sia la parte teorica che quella pratica. «Come va?» Milena stava dietro di lui. «Qui è complicato. Ci borrà del tempo». Stava esaminando i disegni. «Magari stasera studiamo insieme», propose Milena. «Va bene. Vieni da me», disse Michele alzando gli occhi su di lei. «A fare fatto», rispose lei tornando al suo posto. La sera, come concordato, la ragazza andò a casa del ragazzo. Rimasero a lungo al tavolo, a risolvere i problemi. Michele corresse molte imprecisioni. «Il giorno dopo?» Alla presentazione la ragazza ottenne il massimo dei voti. «Come posso ringraziarti?», chiese lei. «Non serve», si imbarazzò Michele. «Dai, usciamo insieme da qualche parte», insisteva lei. «Va bene, possiamo stare semplicemente a casa», rispose lui. «Allora aspettami, verrò», scherzò Milena citando un famoso poema. «D'accordo», sorrise lui. «Da quel momento iniziò la loro amicizia. All'inizio erano solo amici, ma poi, senza rendersene conto, si innamorarono profondamente. E così, quando erano all'ultimo anno e vivevano insieme, Michele decise di presentare la ragazza ai suoi genitori. «Mamma, venite con papà, voglio presentarvi qualcuno», disse Michele alla madre al telefono. «Certo», sentì che la donna sorrideva. L'incontro andò bene. La ragazza piacque ai genitori del ragazzo. Anche loro lasciarono una buona impressione. «Non pensavo che papà avrebbe accettato di venire», disse la madre in cucina al figlio. «Neanche io», Michele si avvicinò e l'abbracciò. Era la persona più cara della sua vita. «Cosa pensate di fare dopo la laurea?» Dina si sedette al tavolo. «Non lo so, vorrei portare Milena anche dalla nonna in campagna», disse il ragazzo. «Sì, è lì tutta sola. Da quando è morto il nonno Basili, è completamente persa. I suoi occhi si fecero tristi. La signora Anna era la madre di Nicola, ma Dina la amava come una madre. Quando il futuro marito la portò a casa di sua madre». Le piacque subito. Da quel momento non si erano mai litigate. Michele fece come aveva detto. Lui e Milena andarono a trovare la nonna. Le mostrò tutti i luoghi dove giocava da bambino. Nei vecchi gazebo di legno, quasi al centro del lago, il ragazzo le fece la proposta. «Stò per piangere», disse Milena prendendo l'anello. «Non farlo», la abbracciò lui. Anche la nonna era felice per loro, ma si lamentava di non poter venire al loro matrimonio. «Sei ancora giovane», Michele le teneva la mano. «Ma quale giovane?» Si allontanò verso la stufa e guardava fuori dalla finestra con i suoi occhi azzurri. Non dire così, Michele era preoccupato per la nonna. Lui e Milena tornarono in città. Li presentarono la domanda di matrimonio. Quando fu il momento di andare all'ufficio del registro, Michele aveva già trovato lavoro. Milena, invece, rimase a casa. Il ragazzo non voleva che lei lavorasse. Preferiva che si occupasse della casa. Il matrimonio si svolse a casa. Nei rapporti tra i giovani non cambiò nulla. Sembrava che si amassero ancora di più. «Michele, quando verrete a trovarci», gli telefonava sua madre. «Ho molto lavoro. Appena avrò un momento libero, verremo di sicuro. Ma sarebbe meglio che veniste voi da noi». In effetti, era sommerso dagli impegni. «Va bene. Vedremo. Sai com'è tuo padre? Non si riesce a farlo uscire di casa», si lamentava la donna. Milena aiutava Michele con il lavoro. Per fortuna lei capiva la situazione. «Da solo non ce l'avrebbe fatta. Caro, mi sembra che presto saremo in tre», gli disse un giorno, quando tornò dal lavoro. «Quando ne avremo la conferma, si rallegrò lui. Domani andrò dal medico. Promise lei». Il giorno dopo si scoprì che Milena era incinta. Michele aiutava la moglie in ogni modo possibile. Lei non voleva stare a letto. Faceva sempre qualcosa. «Ciao», arrivarono i loro genitori. «Vi stavamo aspettando da tempo», sorrise Milena sulla soglia. «Le piaceva quando veniva la madre di Michele. I suoi genitori vivevano lontano, in un villaggio remoto. Non li vedeva dal giorno del matrimonio. Solo allora erano riusciti a venire». «Ottimo», disse Dina mettendo le borse a terra, piene di ogni sorta di cose. «Perché così tanto?», guardava le borse Milena. «Hai bisogno di vitamine», disse Dina scherzosamente minacciandola con un dito. Entrambe risero. La donna rimase poco, ma in quel tempo misero in ordine l'appartamento. Spostò tutti i mobili per prepararsi all'arrivo del bambino. Quando Milena era al quinto mese, accadde qualcosa di terribile. Una mattina si alzò e vide del sangue sul letto. «Cosè?», si spaventò. «Dobbiamo andare subito in ospedale», Michele era preoccupato. Chiamarono l'ambulanza e portarono la ragazza al reparto. Li riuscirono a stabilizzare la situazione. Ma un mese dopo decisero di trasferirla in una clinica della capitale. «È così grave?», chiedeva Michele ai medici. «Non lo sappiamo. Gli esami mostrano qualcosa, ma non capiamo cosa. Meglio essere cauti», rispose il medico. «Siamo d'accordo», disse Michele. Andarono dove erano stati inviati. Dina chiamò, chiedendo se avessero bisogno di aiuto. «Ti farò sapere quando arriveremo», le disse il giovane. Nell'ospedale il trattamento era eccellente, ma Milena non lo notava. Stava sempre male. Aveva nausea e vertigini. All'ottavo mese di notte iniziarono le contrazioni. Dina e Michele erano con lei. Capivano che qualcosa non andava. Subito, il signor Boris sentirono dire a due medici nel corridoio. La madre e il figlio si scambiarono uno sguardo. Si chiedevano se avrebbero rivisto il loro vecchio amico o se fosse solo una coincidenza. Tutti correvano nel corridoio, agitati. Nessuno badava a Michele, nonostante le sue domande sull'andamento della situazione. La mattina, quando tutti erano esausti, il capo del reparto chiamò Michele nel suo ufficio. Salve, disse quando il giovane entrò. Perlomeno mi dica cosa sta succedendo. Sotto gli occhi del ragazzo si vedevano occhiaie scure. Non si preoccupi, ora è tutto a posto. Dobbiamo rendere merito al medico di alto livello, gli disse il dottore guardandolo dritto negli occhi. Cosa è successo? Michele era completamente all'oscuro. Hai fatto bene a portare tua moglie qui. Ieri il tempo era prezioso. Bisognava salvare o il bambino o la madre. Iniziò a spiegare l'uomo in camice. Perché non ne sapevo nulla? Michele balzò su dalla sedia. Calmati, il dottore fece un gesto con le mani. Come stanno adesso? Stanno bene? Le mani del marito tremavano. Era molto preoccupato per la moglie. Te l'ho già detto. Abbiamo chiamato un vero professionista. Ora sta riposando. Ma tra un paio d'ore potrai incontrarlo. Ti spiegherà tutto lui. L'uomo si alzò dalla scrivania. Va bene. Si strinsero la mano. Qualche ora dopo, Michele stava davanti all'ufficio e non osava entrare. Dove è il padre felice? Sentì una voce dietro la porta. Non so ancora nemmeno se sono diventato padre. Porse la mano per una stretta di mano. Il signor Boris si presentò come dottore. In quel momento Michele vide sul suo polso lo stesso pugnale che ricordava dall'infanzia. Sei proprio tu. Sorrise. Ci conosciamo? Il dottore alzò un sopracciglio. Allora Michele gli ricordò l'incidente in aereo. Ma guarda un po', sorrise l'uomo con un ampio sorriso. E ancora una volta mi hai aiutato. Gli occhi di Michele si riempirono di lacrime. Tutto bene, disse il signor Boris avvicinandosi alla scrivania. Mi hanno detto che ci sono state delle difficoltà, si avvicinò Michele. Sì, ma non devi pensarci. Ora è tutto a posto. Presto tua moglie e tua figlia verranno trasferite in una stanza normale. Il dottore ordinava dei fogli sulla scrivania. Grazie ancora, disse il giovane avvicinandosi. Sempre felice di aiutare, rispose l'uomo. Dina era seduta nel corridoio, molto preoccupata per la nuora quanto lo era il figlio. Quando Michele le raccontò tutto, fu sorpresa quanto lui. Quando si seppe che la madre e il bambino stavano bene, Michele tornò a casa. Non poteva lasciare il lavoro, così decisero che sarebbe tornato a prendere Milena quando sarebbe stata dimessa. «Posso restare qui?», chiese Dina al figlio. «Certo, non ne vedo il motivo, ma se vuoi restare, va bene», le rispose il figlio. Partì e continuò a fare tutto il possibile perché Milena e la figlia non mancassero di nulla. Dopo qualche settimana, la moglie gli disse che andava tutto bene e che potevano tornare a casa. Michele andò a prendere le sue amate ragazze. La figlia fu chiamata Maria. Ora i genitori, la nonna e la bisnonna avevano una nuova gioia. «Mamma, vieni, Maria ha nostalgia», telefonava Michele a Dina. «Certo, pensavamo con tuo padre di portarla da noi per un mese e andare a trovare la signora Anna», disse lei. «Ottimo! Milena può venire con voi. Si è stancata di stare rinchiusa in casa». Il figlio era felice di avere una famiglia così unita. Quando i familiari partirono, Michele iniziò a pensare che era ora di acquistare una casa propria e trasferirsi in una città più grande. «Perché non nella capitale?», si chiese Michele. Capiva che non aveva abbastanza soldi per comprare un appartamento lì. Decise di richiedere un mutuo. Voleva fare tutto prima che i familiari tornassero, per sorprenderli. E così accadde. Il giovane era esausto, ma aveva realizzato tutto ciò che aveva pianificato. Ora avevano un appartamento spazioso nella capitale, dove, a quanto pareva, si respirava anche meglio. «Eccomi qui», disse Michele entrando nella casa della nonna. «Perché non hai avvisato?», chiesero le donne girandosi. «Volevo fare una sorpresa». Mise i sacchetti sul tavolo. Poi prese in braccio sua figlia e iniziò a farla girare. Lei gridava di gioia. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme, andarono alla stazione. «Tre biglietti per la capitale», disse Michele al bigliettaio. «Perché andiamo nella capitale?», chiese la moglie che stava dietro di lui. «Solo per fare una passeggiata», mentì il marito. Salirono sul treno. Il viaggio era lungo. A Maria piaceva questa interessante avventura. Non aveva mai passato tanto tempo in treno. «Michele, hai qualcosa in mente?», chiese la madre socchiudendo gli occhi. «No, perché lo pensi?», rispose lui con occhi sorpresi. «Conosco quel tuo sguardo», scosse la testa lei. Alla stazione chiamarono un taxi e partirono. Prima Michele li portò al parco divertimenti per depistare. Li rimasero a lungo e tutti si divertirono. Dopo prenotarono di nuovo una macchina. «E adesso dove andiamo?», chiese Milena preoccupata. «Lo vedrete», disse lui al conducente l'indirizzo. Arrivarono davanti a un edificio. Michele aprì la porta e aiutò tutti a scendere. Poi salirono al piano con l'ascensore. «Ecco, prendi», Michele porse le chiavi alla moglie. «Non capisco», disse lei confusa. «Apri», indicò la porta al marito. «Michele, santo cielo, sei impazzito». Le mani tremavano, ma Milena riuscì ad aprire la serratura. Entrarono nell'appartamento. Tutto era nuovo. «Quando hai fatto tutto questo?», la madre era scioccata. «Volevo farvi una sorpresa», rispose lui soddisfatto nell'ingresso. La famiglia iniziò a sistemarsi nel nuovo posto. E dopo un po' di tempo la mamma tornò a casa sua. Maria iniziò la prima elementare. E come si conviene a una famiglia unita, tutti insieme l'accompagnarono. Michele continuava a lavorare sodo, come sempre, per il bene dei suoi cari. Quando la figlia passò alle scuole medie, iniziarono i primi problemi di carattere. La ragazza non voleva fare nulla di ciò che le dicevano. Contradiceva tutto. All'ottavo anno, Maria conobbe un giovane di otto anni più grande di lei. «Tesoro, capisci che ti rovinerà la vita», le diceva la mamma. «Lo so bene da sola», rispondeva lei. Gli occhi erano truccati pesantemente, le unghie nere come i capelli. «Non intrometterti per ora, passerà la fase adolescenziale e tornerà in sé», consigliò Michele. Ma Milena non riusciva a capire in chi la ragazza fosse cresciuta così. Né lei né il marito erano stati così. «Non posso guardare come si rovina la vita da sola». Poi se ne pentirà, la donna quasi piangeva. «Portiamola a passare l'estate dalla nonna», propose Michele. «E perché no, acconsenti Milena. Maria, andrai in campagna dalla nonna Anna», entrò nella sua stanza il padre. «E cosa ci faccio lì?» Lei si girò verso la finestra senza guardarlo. «Lì c'è aria pulita, il fiume, l'orto. Aiuterai la nonnina?» Alla fine, Michele alzava le mani in segno di resa. «Non voglio andare in quel posto sperduto», disse la ragazza incrociando le braccia sul petto. «E Jaroslav non ci andrà. Parlerò con lui». Michele non si aspettava che la figlia volesse portare anche il suo ragazzo lì. Ma se lei non voleva andare da sola, doveva parlarci. «Davvero?» chiese Maria voltandosi. «Sì, a noi Michele. Bene. Se lui accetta, sono pronta ad andare», sorrise subito la ragazza. Il giorno dopo, Maria portò Jaroslav a incontrare suo padre. Anche se lui era titubante, Maria insistette. «Salve», disse lui avvicinandosi all'uomo e stringendogli la mano. «Allora, Jaroslav, sei pronto ad andare in campagna con mia figlia per dare una mano?» Michele non sapeva da dove cominciare. «Non lo so», si grattò la testa il ragazzo. «Come mai?» Dice che senza di te non vuole andare. Michele cercava una panchina su cui sedersi. «A dire il vero, vorrei lasciarla da tempo. È troppo giovane», dichiarò il giovane. «Questo sì che è un colpo di scena». Non si aspettava una simile dichiarazione il padre. Stettero ancora un po' lì. Michele capì che con quel tipo non avrebbe concluso nulla. Promise che avrebbe riferito a Maria le sue parole e si separarono. «Milena, devo parlarti», la chiamò in cucina. «Cosa è successo?» chiese lei entrando. «Oggi ho incontrato il nostro potenziale genero. Non gli importa di niente. Vuole lasciare Maria», disse in fretta. «E cosa facciamo adesso?» «Lei impazzirà». La madre era scioccata. «Chiamiamo in aiuto mia madre», propose Michele. «Va bene», acconsentì la moglie. Il giorno dopo Dina arrivò dai figli. «Maria, mi hanno detto che ti comporti male», disse la nonna scherzando. «Oh, ti diranno un sacco di cose». Negli ultimi tempi la ragazza era sempre irritata. «Vuoi venire con me dalla nonna Anna?» le chiese andando al punto. «Perché continuate a insistere con questa nonna Anna?» sbuffò la ragazza. Alla fine, la ragazza dovette partire. Quando seppe che Jaroslav voleva lasciarla, si arrabbiò molto. «Com'è bello qui!» Dina aveva sistemato due sdraio nell'orto per prendere il sole. «Non vedo niente di bello», si oppose Maria. Ma in campagna si calmò rapidamente e aiutava davvero la nonna in tutto ciò che le chiedeva. Tornata in città, la ragazza non era più la stessa di prima. «Cosa ti è successo laggiù?» non capivano la madre e il padre. La nonna Anna mi ha raccontato molto della sua giovinezza e mi ha fatto riflettere. «Ho tutto. Ma non mi basta mai. Volevo emozioni forti». Maria parlava con la madre con un tono colpevole. «Cara, la abbracciò la madre. Hai tutta la vita davanti». Dopo questo, tutto nella famiglia si sistemò. Maria migliorò nello studio. Pensava meno alle feste e più al fatto che presto avrebbe dovuto scegliere una professione e iscriversi all'università. «Forse non andrai al decimo anno», le chiedeva il padre. «Perché perdere tempo? No. Dove voglio iscrivermi? Non accettano dopo il nono», rispose la ragazza. Nell'ultimo anno, Maria conobbe un giovane. Era un ragazzo di città. I suoi genitori erano esperti d'arte. Guardando loro, la ragazza decise di iscriversi alla facoltà di filologia. Poteva passare intere giornate nel loro appartamento, che ospitava un'intera biblioteca scientifica. «Forse ci presenterai i genitori di Dmitri», chiese Milena alla figlia. «Certo», rispose lei. Dopo poche settimane, dopo aver parlato con il ragazzo e i suoi genitori, decisero di organizzare una cena di famiglia. «Che bello e accogliente è qui!». Milena osservava l'appartamento. «Grazie. Penso che anche a casa vostra non sia da meno», sorrise la madre di Dmitri. La serata trascorse benissimo. Le persone si rivelarono gentili e amichevoli. «Se Maria entrerà in questa famiglia, sarò molto felice», disse Milena al marito. «Sì, sono d'accordo», annui lui. Dmitri e Maria si iscrissero alla stessa università. Studiavano, si incontravano, passeggiavano. I genitori li aiutavano in tutto ciò che potevano. «Maria, portalo in campagna, non te ne pentirai», le consigliava Michele. Sapeva che un tempo il padre di sua madre aveva fatto lì la proposta. Lui stesso aveva fatto lo stesso, nello stesso posto. Ora era il turno di Maria. La ragazza conosceva tutte queste storie e anche Dmitri ne aveva sentito parlare. Era curioso di vedere questa magica pergola. «Davvero? Andiamo», diceva lui a Maria. «Va bene», accettò lei. Partirono per il viaggio. Per Dmitri fu una vera avventura. Non aveva mai vissuto in un vero villaggio. Il ragazzo si preparò per il viaggio. Comprò un anello e ora aspettava solo di vedere il luogo tanto atteso. «Ciao, miei cari», li accolse la nonna sulla soglia. «Siamo venuti a trovarti», sorrise Maria. «L'avevo già capito», disse facendoli entrare in casa. La sera, la sauna era pronta. Dmitri si rilassò. Era seduto al tavolo, senza fiato. «È incredibile? Non si può paragonare a nessuna sauna», disse entusiasta. Il giorno dopo chiese a Maria di portarlo al fiume. Quando arrivarono, il ragazzo vide una scena davvero straordinaria. La pergola era situata proprio nel mezzo del lago. Si scoprì che un molo portava ad essa, partendo dal lato opposto del lago. Dal punto da cui erano arrivati, non si vedeva, quindi sembrava che la struttura galleggiasse sull'acqua. Entrarono. Maria toccò le vecchie ringhiere di legno. «È qui che due generazioni della mia famiglia hanno iniziato le loro vite», disse. «E tu vuoi iniziare la nostra?», chiese improvvisamente Dmitri. Maria arrossì e si voltò verso il giovane. In quel momento, lui tirò fuori l'anello e si inginocchiò. «Sposami», attese. «Certo», rispose lei chinandosi. Lo abbracciò, lo baciò e prese l'anello dal ragazzo. «Sono felice che non stiamo rompendo la tradizione di famiglia». Stavano insieme guardando la superficie scura dell'acqua. «Sono felice», sussurrò Maria. Tornarono dalla nonna con la lieta notizia. Lei benedisse i ragazzi e regalò loro un'icona per proteggerli per tutta la vita. In quel momento i giovani decisero che si sarebbero sposati in chiesa. «Nonna, verrai?», chiese Maria. «No, sono troppo vecchia», rispose lei sorridendo. «Ti manderemo delle foto», le promise la ragazza. Tornarono in città felici e riposati. «Allora, com'è andata la vacanza in campagna?» Michele sapeva che lì si poteva davvero rilassare non solo l'anima ma anche il corpo. «Fantastico», rispose Maria mostrando la mano destra. «Non ci posso credere». Nella stessa pergola, indovinò il padre. «Sì», confermò la figlia. «Milena, vieni a vedere cosa c'è sulla mano della nostra figlia», chiamò Michele la moglie. «Già immagino», disse lei entrando nella stanza. I genitori dei futuri sposi si incontrarono. Dovevano discutere tutti i dettagli del matrimonio. Non ci furono problemi. Dmitri e Maria proposero come volevano fare. Gli adulti li sostennero. Il giorno stabilito, l'auto con la sposa arrivò alla chiesa. Lo sposo era già all'altare, in attesa. Michele prese la mano di sua figlia. Con le lacrime agli occhi la accompagnò all'altare. «Non posso credere che il tempo sia volato così in fretta», le disse sottovoce. «Grazie di tutto», gli rispose la figlia voltandosi verso di lui. Il padre la portò da Dmitri, consegnandola, per così dire, di mano in mano. «Abi cura di lei», sussurrò il padre. «Certo», sorrise Dmitri. La cerimonia ebbe inizio. Tutto era molto bello. I giovani stavano davanti al sacerdote che ufficiava il matrimonio. Dopo la cerimonia, alcuni volevano accendere delle candele. Altri seguirono i giovani verso l'uscita. Michele sapeva che per far sì che la famiglia fosse felice, bisognava dare ai bisognosi. Vide vicino all'entrata alcune persone sedute in attesa di un'offerta. Si avvicinò a loro. A un'anziana diede qualche spicciolo, a un'altra del pane. Quando si avvicinò a un uomo anziano, decise di mettere nella sua scatola qualcosa di più. Gli porse una banconota. Il mendicante allungò la mano. In quel momento Michele indietreggiò e rimase impietrito guardando il vecchio. Sul suo polso c'era una spada che l'uomo ricordava per tutta la vita. «Signor Boris», chiese Michele con esitazione. «Michele», l'uomo socchiuse gli occhi. «Cosa ci fai qui?» Il padre della sposa non poteva crederci. «Questa è la vita», abbassò la testa l'altro. «Vieni con me», disse Michele. «Va bene». Subito. Il signor Boris sollevò lo sgabello che era lì e lo mise dietro i cespugli. Si allontanarono un po' e si sedettero su una panchina. «Raccontami cosa ti è successo e come sei finito qui?» Michele era ancora sotto shock. «Che c'è da raccontare? Sono diventato vecchio. Mi hanno subito messo da parte», sospirò l'uomo. «Non capisco. Eri un medico rispettato. Hai salvato tante vite e fatto del bene alla gente». Michele vide che il corteo nuziale stava lasciando la chiesa. Pensò che avrebbero potuto ancora raggiungerli. Ma qui c'erano questioni più importanti. Fino a poco tempo fa lavoravo ancora. Poi è successa una tragedia. Mia moglie è morta. Dopo di ciò, ho cominciato a non riuscire più in nulla. La direzione dell'ospedale mi ha parlato, dicendo che era ora di andare in pensione. Ho chiesto di rimanere almeno come inserviente. Ma non hanno accettato. L'appartamento era di servizio. Il sacerdote di questa chiesa, un mio vecchio amico, mi ha spesso aiutato. Come anche io lui. Mi ha invitato a dare una mano ai parrocchiani locali. Raccontava tristemente la sua storia il signor Boris. Comunque, non riesco a mettere tutto questo in testa. Michele guardò in alto, dove suonavano le campane. «Così è la nostra vita. Non sai mai come si volterà. Anche l'uomo ascoltava il suono. E i figli?» chiese Michele. «No, Dio non ce li ha dati. Penso che sia per i miei peccati di ventù», rispose tranquillamente l'ex medico. «Che peccati potevi avere?» Michele non capiva. «E chi non ne ha?» Il vecchio fece un gesto di rifiuto con la mano. «Voglio sapere cosa potrebbe aver fatto un uomo che rispetto tanto», disse Michele guardandolo supplichevole. «Da giovane mi innamorai. E così tanto che ancora oggi ne sono nostalgico», disse il vecchio con un tono malinconico. «E cosa è successo?» Aspettava il seguito l'interlocutore. «Niente, semplicemente i miei genitori non l'accettarono. Lei era venuta in città per alcune sue faccende. Ci incontrammo per caso. Vidi i suoi occhi azzurro cielo e mi innamorai. La pregai a lungo di restare. La ragazza era di un villaggio. Disse che doveva andare a avvisare tutti. E poi? L'hai portata e lei è diventata tua moglie. Lo anticipò Michele. No. Allora mi offrì di andare con lei. Quando tutto fu deciso, da persona corretta la portai a casa mia. Mia madre iniziò subito a borbottare, dicendo che in famiglia non ci sarebbe mai stata una villana. La pregai di non badarci, ma lei non ce la faceva. Le lacrime iniziarono a scendere sulle guance del vecchio. Vi siete lasciati? Capì Michele. Sì. Un giorno, mentre ero all'università. Se ne andò senza nemmeno lasciare un biglietto. Più tardi seppi da conoscenti comuni che era incinta di me. Andai al suo villaggio, ma la mia amata era già con un altro. Allora mi arrabbiai molto con lei. Tornai in capitale e mi sposai con la ragazza scelta dai miei genitori. Finì la sua storia. E adesso, non ha mai cercato di trovarla? Era ormai curioso l'uomo. No. Perché? Probabilmente il villaggio non esiste nemmeno più. Fece un gesto con la mano. Capisco, disse Michele. Sapeva che storie del genere accadevano, ma non ne aveva mai incontrata una così da vicino. Guarda, il vecchio tirò fuori una foto dal taschino. Michele la prese per esaminarla più da vicino. L'immagine era sfocata. La avvicinò al viso e poi rimase in silenzio. Prima si fermò, poi si girò stupito verso Boris. Cosa c'è? Non capiva il vecchio. Non ci crederà. Questa è mia nonna, disse. Anna è tua nonna? Il vecchio cercò di alzarsi dalla panchina, ma non ci riuscì. Sì, è la madre di mio padre. Annui Michele con le lacrime agli occhi. Non può essere, il vecchio era agitato. Bene, ora vieni con me. Oggi mia figlia si sposa e domani andiamo tutti insieme al villaggio. Parlando velocemente, anche lui era agitato. La nonna non aveva mai raccontato nulla di simile. Il matrimonio andò molto bene. Dina, quando vide il figlio con un vecchio, prima rimase sorpresa, ma quando seppe chi era, rimase sbalordita quanto il figlio. Nessuno le aveva ancora raccontato nulla della nonna. La mattina dopo erano tutti pronti. Papà, non capisco perché tutta questa fretta. Maria non capiva perché si stessero preparando così in fretta per andare dalla nonna. Lei e Dmitri avevano persino pensato al peggio. Quando arriverete lo saprete, disse loro. Michele convinse a fatica suo padre a venire con loro. Come al solito, lui cercava di evitare. Funzionò solo una cosa. Tua madre è già anziana. Se morisse domani, non ti vedrebbe nemmeno per l'ultima volta. Il figlio era testardo. Va bene, vengo, accettò allora il padre. Arrivarono tutti a casa della nonna. Lei uscì dal cancello, molto sorpresa. Mentre stavano lì, Boris si fece avanti. Anna, non sei cambiata affatto, si avvicinava sempre più. Boris esclamò lei sedendosi quasi. Il nipote la sorresse. Cosa? Anna, Boris, non capisco nulla, disse Nicola. Mamma, cosa sta succedendo? Entriamo in casa, la nonna iniziò a piangere. Quando entrarono tutti e si sedettero al tavolo, la nonna Anna si alzò. Guardava il vecchio uomo con occhi che nessuno aveva mai visto. Nicola, questo è il tuo vero padre, disse infine. Cosa? Dissero quasi tutti. Ricordi, quando ti lasciai, ero già incinta, guardava la nonna Boris. Avevo paura che in paese mi giudicassero. Così mi sposai in fretta con Vasili. Lui mi corteggiava fin dai tempi della scuola. Quando nacque Nicola, nessuno sapeva che non era figlio di Vasili. Lo sapevo, disse il vecchio colpendo il tavolo con il pugno. Forse dovremmo lasciarli soli, chiese Michele. I parenti sconvolti si dispersero e la nonna e il vecchietto rimasero soli in cucina. Parlavano di qualcosa. La sera, Michele vide che andarono verso il fiume. Capì subito tutto. Allora, tutto bene? Chiese ai vecchi la mattina. Abbiamo deciso di vivere insieme almeno per gli ultimi anni, sorrideva la nonna. Anche se era anziana, sembrava rifiorita. E questo è giusto, dissero tutti. Solo Nicola non riusciva a rassegnarsi al fatto che suo padre non fosse morto. Ma fosse lì, vivo. Forse non è un caso che sono entrato nella vostra vita, disse Boris guardando Michele. Sì, il sangue chiama, disse Dina avvicinandosi. Tutti tornarono a casa. Erano così felici per la nonna. Dai suoi racconti, dopo la morte del marito, non aveva mai guardato nessun altro, perché amava solo Boris. Ora sarebbero stati felici insieme. Anche se vecchi, avrebbero reso più dolci gli ultimi giorni l'uno per l'altra. Che bello, disse Milena entrando nell'appartamento. Presto diventeremo anche noi nonni, risse Michele. Era felice di aver aiutato il signor Boris come lui aveva aiutato lui. E 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 aveva aiutato lui.